Dio è sempre il re di tutto l'universo. Il suo regno sovrano non è mai stato interrotto, ma non sempre è stato completamente percepito dagli occhi degli uomini. Quando parliamo del suo regno intendiamo i luoghi e le condizioni in cui si manifesta il dominio sovrano di Dio, il suo regno. Nel corso dei secoli della storia umana il suo regno viene progressivamente rivelato dalla sua parola e provvidenza. Quando proviamo a comprendere il complesso di questioni relative a cose come le profezie del regno, il giudizio finale e la natura della vita eterna, il problema è decidere in che modo ogni specifica promessa e predizione diventa parte del flusso della storia redentrice. Ogni dichiarazione profetica deve essere considerata attentamente per vedere dove si adatta meglio a ciò che Dio ci ha detto in altri passaggi della scrittura.